Inizio il video rispetto a 45 nodi, diciamo le 30 e 35 nodi, e poi giustamente il pannello, ma è un prodotto di sante. Scusate la trombana del personale, vedete, questo è un movimento nella... non so se sia un movimento... non riesco a tenere la telecamera un po' perché non ci metto, ma il mover non si muove.